In soddisfazione e delusione da parte dei comitati dei pendolari di Arezzo, della Valdichiana e del Valdarno dopo l'incontro con l'assessore Ceccarelli e la Regione Toscana. Ci aspettiamo poco, scrivono dal prossimo contratto di servizio Regione Trenitalia che sarà firmato entro novembre della durata di 15 anni. Probabilmente ci saranno dei miglioramenti per gli utenti delle altre linee ferroviarie e soprattutto quelle non elettrificate, ma poco per i pendolari della linea Aretina. I problemi degli inchini dei treni dei pendolari alle frecce a Italo sulla direttissima rimangono, anzi sono destinati a dicembre a peggiorare con il nuovo orario e con la probabilità di introduzione degli altri treni ad alta velocità immessi sulla direttissima. Gli altri problemi sono destinati a rimanere tali come il sovraffollamento e i ritardi. La novità dell'incontro è stata però l'annuncio di un tavolo tecnico fra le regioni Umbria, Toscana e Lazio per affrontare i grossi problemi dei treni per Roma e Foligno che percorrono la direttissima. Ma questo tavolo non è nel contratto di servizio soltanto una dichiarazione di intenti. Positivo, infine, è stato giudicato l'impegno dell'assessore Vincenzo Ceccarelli di scrivere una nuova lettera al ministro delle infrastrutture e dei trasporti De Micheli dopo quella inviata a giugno all'ex ministro Toninelli.